Ciao a tutti e benvenuti su My Football Jersey. Oggi vi voglio presentare le differenze che ci sono tra la versione player, che è questa che vedete, del Tottenham per la stagione 21-22 e la versione fan, quella cioè dedicata ai tifosi. Allora per prima cosa ci tengo a chiarire che quando si parla di versione player, autentic o fan replica non stiamo parlando di una copia di un originale o meno, sono semplicemente due versioni diverse. La versione player più tecnica è quella dedicata ai calciatori che costa un pochino di più, la versione fan è quella un po' più semplice dedicata ai tifosi. Questa maglia è una delle mie preferite di questa stagione, peraltro trovate sul canale ad esempio un video in cui facciamo le differenze tra la versione del Real Madrid player e fan che sono dell'Adidas. In questo caso parliamo invece di una maglia Nike, quindi anche qui potrete apprezzare le differenze. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete tutti i dettagli. Ciao, buona visione! Fatemi dire che le due maglie sono molto simili, l'avete tutto a vedere prima, lo vedete adesso. Peraltro ad esempio lo stemma del club e il logo della Nike sono in entrambi le versioni termosaldati, questa è una particolarità perché di solito nella versione fan sono ricamati. Il main sponsor è termosaldato in entrambe le versioni. Come vedete la trama della versione player è molto più ricercata e questo è dovuto alla tecnologia dry fit advance che viene utilizzata, mentre nella versione fan viene utilizzata la tecnologia dry fit. Lateralmente la banda è sempre a zig zag, l'etichettina della Nike è color oro nella player e color argento nella fan. Nella versione fan come vedete il retro del colletto è della stessa trama che ha la maglia. Le rifiriture delle maniche sono praticamente identiche. Sul retro le maglie sono molto diverse. Nella versione player infatti è presente lo spazio nero per stampare il numero mentre nella versione fan c'è la stessa tinta che troviamo sul fronte. Spero che il video vi sia piaciuto e indipendentemente che vi piaccia la versione player o la versione fan, spero che possiate regalare un like e iscrivervi al canale per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti. Ora ci vediamo alla prossima, ciao!